Musica Le novità di quest'anno sono le note di Natale perché appunto si è pensato che dalla musica nascono le emozioni ed è per questo che per ogni settore si è scelta una canzone diversa perché ogni canzone fa venire fuori un'emozione Il nostro scopo è questo non solamente di far felici i bambini che sicuramente lo saranno ma anche gli adulti perché venendo qui forse un po' allontanano la quotidianità e anche i problemi che porta la quotidianità stessa Siamo tra i mercatini più belli d'Europa dicono e non ci crediamo perché l'affluenza è massima e ogni anno cresce